La Corea del Nord ha promesso di sospendere i suoi test nucleari e missilistici durante il dialogo in corso con la Corea del Sud. L'annuncio ufficiale arriva da Chung Weyong, il capo della delegazione sudcoreana, che ha incontrato a Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong-un. In quella sede si è concordato anche un summit tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e Kim. Le due Coree hanno anche concordato di aprire una linea diretta di comunicazione tra Moon e Kim per alleggerire la tensione militare e avere un coordinamento più diretto tra i due paesi. Non solo, la Corea del Nord ha dichiarato di volere un dialogo diretto anche con gli Stati Uniti, offrendo la moratoria delle sue attività sul nucleare e i missili per l'intero periodo dei colloqui. Per gli Stati Uniti e per il Giappone, però, la denuclearizzazione è la premessa fondamentale per far ripartire qualsiasi tipo di trattativa. Il presidente Kim ha detto che la questione della denuclearizzazione può essere discussa come un tema per il dialogo Corea del Nord-Stati Uniti, ha detto l'inviato di Moon.